ci siete io sì eccomi sono messa anche l'occhialo rosa stasera per la primavera non sono temperature prettamente primaverili diciamo insomma un po' rigide per essere primavera però abbiamo fiducia che ritorni un po' di tepore non vedo niente vedo solo che siete 9 ma non vedo altro né scritte né niente 10 bene attendo eccola gianna ciao gianna grazie buona serata a te eccola paolina bene che bello vedervi io sono sempre ciao lisa cristina ciao io sono sempre la solita polla che tutte le volte c'è la diretta sono sempre ho mangiato 7.000 mandorle per merenda una dentro l'altra e dalle 6 sono qui che girello sono sempre super emozionabile sto benissimo sono pure da lettura molto cinesi della zippo bene oh c'è anche la laura ciani ciao bene ciao la retta sono contenta che ci siete la voglia di vedervi aumenta ciao giuliana bene aumenta sempre di più e che dire come si fa qui si fa finta di pensare sono gli ultimi 8 che poi con questi ultimi 8 sono bene ho gli occhiali se vabbè ora c'è il riflesso del telefono non è che sia proprio il massimo si sono quelli da cinesi che bisogna stare attenti perché si rompono a guardarli bene si me le scherzo si concorrenza con draghi c'ave da fargli un discorsino a draghi no vabbè non mi piace quella persona purtroppo ora non voglio entrare in discorsi strani però insomma ci sarebbe da fargli un bel discorso a tutta la gente lì non solo a lui perché qui veramente siamo un braghi di tela tutti e quindi insomma o discorsino o un bel fucile a canne mozze e fare un bel pulito ecco no vabbè comunque insomma aspettiamo ancora stiamo dimostrando che abbiamo forza no e quindi forza coraggio pazienza e quant'altro quindi che si fa si fa ridere perché fare step con lo zerbino mi fa un po sorridere no perché insomma è un po fittizio nel senso che comunque non ha la stessa valenza però vabbè magari per un pochino ciao a sabri per un pochino magari ci immaginiamo di essere in palestra rimetto indietro la canzone vabbè purtroppo c'è sempre questo problema paolissima certo che ti saluto ciao è salutare anche tutte le mie compagne brava paolina no no vi saluto è che a volte non arrivano le scritte a volte passano veloce insomma magari sto parlando di altro se l'ho detto io non sono da dirette io sono da da sala cristallo c'è poco da fare mi mancate voi mi manca la palestra mi manca soprattutto la mia palestra la 01 la nostra e quindi che dire niente c'è poco da dire allora io come avevo come avevo solenemente promesso ho preparato un cd di brani lenti per fare stretching che sparerò a tutta palla quando saremo nella sala cristallo e la paolina la voleva ascoltare per questa sera metterò la prima ho messo anche new york new york di frank sinatra la signorina luzzi fa lezione con noi stasera con lo zerbino però quante volte ti ho chiesto mano di venire a fare lezione con noi o è troppo caldo o quando fa freddo fa troppo freddo io aspetto sono tanti anni che aspetto eh arianna ciao ciao tina bene ben arrivate quindi bando ai convenevoli mi tolgo gli occhiali perché se faccio lezione con gli occhiali non so che cosa combino stasera ho arredato lo scenario della diretta con una pianta sempre verde con una pianta così per cambiare e il cuscino serve perché per trascondere il filo della lampada e l'interruttore non hai lo zerbino aia mentre finisco di fare due acchere che poi si deve cominciare puoi mettere delle strisce di scotch di carta a terra per avere un punto di riferimento va benissimo devi darmi ripetizioni sono disponibilissima ma figuriamoci è un vanto è un onore anzi per me darti delle ripetizioni dove fate io lo dico sempre anche il mio gruppo se faccio io fate anche voi quindi bene allora stacco stacco l'ipad no l'ipad il tablet perché non è un ipad prova dai roberta certo ciao tina ben arrivata bene un'altra fans che bello avete dei fans bene lo zerbino immaginario sì alla fine puoi va bene anche prendere un riferimento di una mattonella o di qualcosa grazie della rosa io cambio collezione brava brava l'hai scritto è pubblicato e l'hanno letto tutti quindi io siccome la pizza non la so fare nemmeno la focaccia e io sono golosissima di focaccia schiacciata con le patate senza rosmarino quindi l'ha detto è ci sto ci sto bene una buona maestra perfetto allora io direi di partire io ho il zerbino lì ci vediamo qualche passo più indietro blocchettino cardio semplicissimo a proposito due bottigliette d'acqua due manubri no gli sparagili ho dati al mio amico il mio migliore mio è venuto con me a cercarli però insomma ne abbiamo trovati diversi sì mi sono divertita più che altro bene manu la promessa è promessa eh bene allora mi rimetto gli occhiali perché c'è sempre il solito problema che tasti scuri su stereo scuro sono veramente il massimo bene il volume dovrebbe andare bene ringrazio nuovamente la nostra mano per tutto il lavoro infatti hanno le vinte almeno li fa una tas violinata levo le scritte ci vediamo poco più in là buona lezione marcia destra tutto facile vedete troppo lontana dovrebbe essere giù per su come sempre la mia destra è la tua destra sempre uguale lo zerbino on the zerbino non raccogli il zerbino step dance scaldiamoci un po' apri chiudo semplice 4 3 2 sul ginocchio rilassare le spalle e attivare l'addome e inizia a mantenere l'indicazione profonda e regolare step dance oggi lezione in casa troppo freddo 4 3 2 sul ginocchio 4 3 2 sul ginocchio fuori l'aria addome attivo 4 3 2 sul ginocchio ancora fuori apri chiudo e 4 su ancora fuori sempre 4 sali gli ultimi i piedi i piedi un po' più lontani rispetto alla linea delle anche scaldiamoci un po' la stessa marcia la fai scendendo oh 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 sali ancora giù spingi bene sui palloni guarda un quarto a terra ancora giù scendo 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 e salgo ancora uno giù rimane in metà le stelle giù bene e continuo a marciare respira respira e giù le spalle due croci mentre cammini e resti qua 4 3 2 rimane ancora 2 è tutta marcia è come camminare 4 3 2 e marcia bene ne fai 2 più 2 2 2 e il resto marcia 2 bene 2 volte ancora l'ultimissimo resta qua miso metto mani in appoggio sulla ginoccia mantieni il dorso aperto le spade aperte piccoli senza sollevare i talloni l'alto plantale rimane in appoggio il bacino si muove in orizzontale ancora l'alto plantale l'alto plantale a destra e a sinistra l'addome è sempre attivo le spalle si rilassate sulle scape gli ultimi 8 7 6 5 2 4 3 2 attenzione a me nel passo 3 e stendo bene l'ultimo pezzettino di riscaldamento 3 e stendo allunga bene le braccia verso le pareti polpice verso il sottito prendi aria scendi e fuori aria sali 3 2 1 apri ancora piccolo occhio a me fuori e fuori bene strebole e al centro e mi sposto destra e sinistra andiamo giù sempre 2 vai a cercare la contrazione nessuno l'omico e mantieni la torre attivo giù utili giù utilissimo 3 2 1 fuori bene rimani giù e recupera i piedi al centro e marcia e marcia destra bene abbiamo bisogno di 4 ginocchia e marcia e marcia sinistra 4 3 2 1 e marcia destra bene sono 4 e marcia più 4 ci siamo? niente di nuovo andiamo 2 3 4 e marcia sinistra ancora 4 e marcia sì ancora 2 Roberta ci sei? andiamo la buonissima è contentissima che avessi avuto lo step a casa andiamo sempre marcia bene attenzione alle ginocchia scendo 2 3 4 e marcia sinistra 1 2 3 4 e marcia destra sì sinistra occhio eh 4 3 2 marcia hop uguali sempre 4 marcia poi sol calcio siamo? bene a fondo con leggi niente di strano devo solo fare attenzione al ginocchio avanti che non oltrepassi la linea della patina ci siete? come dico sempre tutto è piede sullo step anche il tallone respira 2 3 3 4 ancora 4 ultimi 2 andiamo ne fai solo 3 e marcia solo 3 e marcia destra bene sto modificando un attimo 3 2 1 chiudo sinistra marcia bene 3 2 1 chiudo è più facile andiamo 3 2 1 marcia sinistra la destra li fischi solo per Cristina me la chiesti lei la sinistra 4 3 2 si scende siete e marcia destra facciamone ancora 2 e poi lo variamo sinistra marcia sempre 4 3 2 e sempre destra rimani 3 che guarda scendo avanti chiudo e marcia e scendo si giù avanti chiudo e marcia destra andiamo giù avanti chiudo scendo sinistra 6 scendo destra ancora 2 avanti scendo chiudo la sinistra marcia salvi la destra ancora 2 scendo sinistra e avanti scendo la destra ultimi 2 sinistra sinistra scendo l'ultimo sicuro kick calcio siete qui qua sì bene mi alleggerisco un po' 4 4 3 2 2 da capo occhio bene e marcia c'è un ginocchio sì scendo avanti chiudo su e marcia bene scendo sinistra scendo voglio dare quando il ginocchio non che sale andiamo giù sì niente di nuovo scendo e la marcia la porto a terra per ora giù sì ancora 2 scendo e marcia ancora 1 giù gli ultimi 2 e andiamo a cambiare scendo di sinistra giù si ci sei single kick calcio singolo ma single kick faccio scena che fai questo? non è solo il mio zepino è anche i ragazzi che gioca che ti piace in particolar modo bene ancora tutto da capo si scende il ginocchio la marcia a terra si ancora 2 bene in memoria si gli ultimi 2 la sinistra bene single kick bene al prossimo giro una marcia una marcia non la togliamo a terra la facciamo sullo stesso e a 7 e 8 scendiamo è semplice andiamo marcia e scendo si marcia e scendo andiamo rimani giù sì ancora 2 marcia 7 e 8 ci siamo sì ultimi 2 andiamo cambiamo up up single kick siete? è semplice non ci ho perso a sbagliare ok? tra l'altro chi fa le azioni con me l'ha già fatto taccio lo rifacciamo ancora una volta uguale e poi andiamo a modificare sempre facile da capo resta su marcia e scendi up up gli ultimi 2 l'ultimo occhio alla marcia andiamo fuori fuori e intorno go cammino destra sinistra e giù è una marcia up up scendi sinistra si scambia sempre i piedi giù ancora 2 ancora 2 bene è una camminata fuori ancora 2 cammino e scendo ci siamo ci siamo gli ultimi 2 sinistra buonissima ci sei 5 squat piedi paralleli il succo è giusto non è questo rimango qua la sedia è visibile prendo l'aria ma sono più fuori prendo l'aria sotto la terza ancora 4 spresa ancora ancora sempre sinistra ancora 4 ripara tutto dal capo puoi api stanno Dove, salto, silto fuori, abro, giudo, respira, ancora quattro, scelto, andiamo, cammino, scelto fuori, prepara la sinistra, si scende, abro, scelto fuori, la destra, mi sei? Vai, la destra sarà contenta, il mio esercizio, quarto, tre, due, scelto, cammino, silto fuori, abro, andiamo, sinistra, destra, singolo fuori, occhio bene, rimani qua, cambia, ne facciamo ancora due, prepara la sinistra, giù, in quarto, silto fuori, apri la destra, rimani fuori, giù, cambia, isometrico, ancora due, l'ultimo, tutto dal campo, andiamo, cammino, singolo, squat, apri la destra, apri, torna, apri, torna, ancora due, tutto sinistra, si va, fuori, cammino, singolo, singolo, apri, rimani lì, apri, lascia, torna, ancora due, sono sempre tre tempi, rimani qua, piccolo, più piccolo, sempre piccolo, singolo, siete caldi? Ovviamente con lo step sarebbe un po' più impegnativo, ovvio, però di meglio non possiamo fare, sicuro, avevo pensato di proporvi di fare step sul tavolino, ma non mi sembrava proprio il caso, io ce l'avrei, ce l'ho il tavolino, però insomma, anche no, meglio di no, bene, siete solo scuoto, vero? Rimani fuori, Chiudo al centro, occhio, scendo, apro, c'è un saltino al centro, chiudo, apri, resta, unisci i piedi e chiudi, fuori, fuori, salta, piccolo, apro, fuori l'aria, è sulle spalle, chiudi, fuori, ancora uno, ultimi due, a centro, piccolo, apro, l'ultimo, resta qua, e cambia, ce l'avete ancora ai glutei? sempre, bisogna sempre assicurarsene, di avere ancora tutti i pezzi al loro posto, andiamo, e cambia, stabilizza, attiva il core, fuori, guarda sulla gamba, rimani là, cerca di portarla parallela al pavimento, e cambia, se hai bisogno, appadra pure sulla gamba destra, ancora fuori, lo sguardo al pavimento, la punta del piede è rivolta verso di me, ancora due, 3, 2, 1, cambio, ultimi due, isometria, nient'altro, cambia, non aprire la punta, marcia, ce l'avete tesetti? in manubri le bottiglie, qualcosa? io faccio le bottiglie, che non bevo, perché quali servono, i piedi, tutto a posto? bene, i piedi paralleli, siamo da basti, allo zettino, ok? ruota, le mani verso l'interno, bene? le mani si guardano, da qua, inizio a portare di braccia, mi linea con le spalle, e scendo, le spalle, sono sedute comodamente sulle scapole, i comiti leggermente pressi, ancora, fuori l'aria, prendi le aree e scendi, fuori, inspira, fuori l'aria, ancora uno, attenzione a me, fuori dalla sinistra, vado a cercare l'esterno, fuori destra, il braccio libero, sale verso l'alto, sotto, albunca, scendi a destra, spingi bene il braccio in alto, bene, fuori l'aria, inspira, fuori, ancora verso destra, giù, senza spostare le ginocchia, attenzione, le ginocchia guardano sempre avanti, giù, facciamone ancora due, ancora giù, un belimir, testa, attenzione, Avvenzione al braccio, che si può in alto, attiviamolo, scendo, infialo sotto l'abbraccio destro, e sbaglio il cuore a uno, fuori l'aria per il piedotico, torna su, siamo in croce, chiudo, apro, fermo le gambe, torno, facciamone ancora due, fuori l'aria, inspiro, chiudi e soffia, l'ultimo, chiudi, buon forza eh, rimani qua, sul braccio destro, sul braccio sinistro, piedi paralleli, ginocchio afflessi, chiudi i bicipiti verso le orecchie, bene, busto dritto, da qua, scendi, controlla la discesa, fane otto, piccoli, sali lentamente, otto, sette, sei, cinque, chiudi i gommi, e tre, piccoli, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, scendi di piano, otto, piccoli, schiena tavolino, quattro, a terra, testa, come schiena, sono in linea, sali, chiudi male le braccia alle orecchie, e frecchi, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, scendi, piano, frena, apri bene le spalle, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, ultimo, stai, chiudi i gommi, e pechi, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, torno giù, riporto la schiena al tavolino, piego bene i gommi, e apro fuori il braccio destro, lasciando le spalle, sinistro, rimolgo il resto al pavimento, fuori l'aria, apro, prendo male il scelgo, devi sentire la scatola, che si sposta e fa cercare l'altra, addoni attivo, preso sull'arco plantare, lo sguardo a terra, non importa che i miei quadri, ascolta, spiega bene le ginocchia, ancora quattro, spese e spalle, ancora due, spingi l'omperito verso l'alto, lascia il braccio destro su e fane otto, sette, piccoli, sei, cinque, quattro, tre, due, cambio, otto, sette, spingi l'omperito, quattro, quattro, tre, due, ancora due, dai, non spostare le spalle, continua a guardare il pavimento, quattro, tre, due, gli ultimi, otto, sette, sei, e poi sono sedici, eh, quattro, tre, due, e lascio, bene, manubri al pavimento, io mi appoggio piano perché se mi si spappa la bottiglia, poi rido, piedi paralleli, manubri davanti ai piedi, ci appoggiamo sotto, bene, da qua, allunga piano la gamba, la destra, fuori l'aria attorno, lascia la punta del piede a terra, allungo, fuori l'aria, via le spalle dalle orecchie, sempre nelle braccia, giù, su, giù, ancora due, allungo, l'ultimo dentro e l'ultimo sinistro, lascia la mano destra dietro, stabilito il peso, piega la mano sinistra, da qua, devi sollevare la gamba, stessa, e braccio sinistro, braccio a posto insieme al manubrio, vai, appoggio, vieni la dogma, ancora quattro, braccio a posto insieme al manubrio, guarda a posto insieme al manubrio, ancora due, l'ultimo, cambio, portala sinistra dietro, punta del piede in appoggio, prepara il braccio destro, stabilizza, metti bene il ginocchio destro, stendi il braccio, e si sale, fuori in aria, scendo, e ancora, vieni la dogma, gli ultimi quattro, quattro, scendo, tre, ancora due, l'ultimo, bene, ritorno, lascio i manubri, i piedi paralleli, rilassa il piede avanti, facciamo il bene respiro, srotolo verso l'alto, soffio fuori aria, giù le spade, bene, tappeto, veramente il tappeto, siete sempre lì, le cose, bene, tappetino, eccolo, abbassa un po', almeno mi sentite meglio, qua va bene anche, una musiletta un po' più bassa, bene, tappetino, o tappetone, dipende, come ce l'avete, manubri, bene, da qua, prima stendo la gamba sinistra, prima di scendere al tappeto, raccolgo, la gamba destra al pezzo, e la uso, per stendere bene la corona verso l'alto, spingi via il tallone sinistro, e solleva da terra il tallone, solo il tallone, allunga bene verso il soffitto, appoggia, cambia, tira la punta del piede verso di te, spingili al tallone e staccalo da terra, stresci con la schiena verso l'alto, facciamone ancora due, puoi farlo direttamente sollevando il tallone senza appoggiarlo eh, bene, appoggi solo il portaccio, spingili al tallone, spingili al tallone, spingili al piede verso di te, l'ultimo, bene, al prossimo giro, raccogli di nuovo il ginocchio destro, e rimani là, bene, aggancialo e attaccalo bene al petto, scendo, e torno su, sempre lasciando il tallone sollevato da terra, rotola sul tappeto, e soffio fuori l'aria quando sali, occhio a che cosa avete dietro eh, io non c'ho niente, meno male, ancora, sempre la gamba sinistra bella dritta, ancora uno, bene, tre, due, quattro, uno, si cambia, giù, sali, appoggia solo il polpaccio a terra, incolla bene il ginocchio al petto, fuori l'aria con forza quando sali, ancora due, la testa, l'ultimo, anche perché non ho più posto alla parete, bene, raccolgo le ginocchia al petto, lentamente scendo a terra, bene, vado a prendere le mie manastri, le mie bottiglie, quello che avete, anche due banane ma sono un po' leggeri, bene, braccia lunghe verso il soffitto, appoggio bene le spalle, divargo leggermente i piedi rispetto alle armi, ma i taloni sono vicini ai frutti, sali, testa, spalla e braccia, e scendo, cerco di portare le braccia paralleli al pavimento, di nuovo, sali fuori l'aria, scendi, prendi l'aria, ancora due, occhio a me, quando sali, il braccio destro lo flecchi verso di te, tira, portando il manubrio all'altezza della spalla, sinistra, inspiro, ci sei di nuovo, flecchi, porta il manubrio verso la spalla, ancora uno, soffia, inspira, soffia, facciamone ancora due, ancora uno, ultimo destro e ultimo sinistro, l'ultimissimo, bene, aperture, scendi due e sali due, fuori con le braccia, schiaccia l'altra manubale, prendi leggermente i gomi, le mani rivolte verso l'interno, prendi l'aria, apri, fuori l'aria, chiudi, facile, volevo dire da mezzo litro è ancora più facile, bene, rimani con le braccia fuori, sospese dal pavimento, avvicina i piedi e riporta in linea correante, bene, da qua, lascia le braccia in isometria, estendi la gamba sinistra, in alto, la destra, fuori l'aria estendi, prendi l'aria e scendi, ancora, su, appoggio, facciamone ancora due, facciamone ancora due, al prossimo giro lasci la gamba sinistra in alto, le braccia sono sempre sospese lì che lavorano eh, bene, braccio destro, lo porti oltre la gamba sinistra, che è in bella distesa, fuori l'aria e sali, sinistra avanti, incrocia la destra, sinistra avanti, bene, la destra incrocia, la sinistra scende lungo il busto, non appoggiare le braccia a terra eh, ancora sinistra, facciamone ancora, quattro, apro, tre, e, ancora due, cambio, braccia sospese dal suolo, stendi la destra, idem, uguale, bene, il braccio sinistro in croce e il destro scende lungo il busto, fuori l'aria, fuori l'aria, andiamo, allunga, incrocia, ancora avanti, facciamone ancora, quattro, sali, tre, tre, ultimi due, l'ultimo, l'ultimo, bene, retto il cinocchio, l'ultimo sforzo, appoggiando, i manubri sulle ginocchia, bene, riportiamo con le mani, le gambe a squadra, sollevando le spalle con il manubrio destro, spingi sul ginocchio e allunghi e spingi via la gappa, bene, stand, sollevando le mani, testa e spalle, soffiando fuori l'aria e guardando l'ombelico, andiamo, con un po' di tempo, sinistra, soffia fuori, con forza eh, ancora quattro, torno, tre, ancora due, sali con la destra e resta la, quattro, tre, prendi l'aria e torna la sinistra, gli ultimi due, guarda l'ombelico, l'ultimo, bene, manubri a terra, incastra le braccia sotto le ginocchia, schiacciale al petto, appoggia bene, spalle e scapole al tappeto, e lì, ogni promessa è debito, anche se non siamo in palestra e non sono con voi, vi penso lo stesso, per qualcosa, qualcosa faccio sempre per voi, oltre che a pensarvi, bene, lo abbasso un po', vediamo se non mi bloccano eh Luzzi, magari, chissà se qualcuno la riconosce, ho scoperto di avere il cd, non me lo ricordavo nemmeno, vediamo se vi viene in mente un film, di qualche anno fa, bene, siete sempre lì eh, vi state rilassando, va bene, stretching per la Madonna, questo è Toto, Toto, Toto canzone, vediamo se qualcuno la riconosce, è un film con un attore famoso italiano, bene, schiaccio le ginocchia a petto, e mi dondo leggermente verso destra e verso sinistra, vediamo lui vince, bene, da qua, porto i piedi a terra, incastro le mani dietro la schiena, e le uso come spinta, per salire in posizione seduta, bene, abbiamo la gamba sinistra distesa, la gamba destra incrociata sulla sinistra, con i piedi all'altezza del ginocchio, con il braccio sinistro, mi auto abbraccio, forte il ginocchio, il braccio destro lo passo dietro, avvicino la mano al bacino, e con la forza del braccio destro, cresco verso l'alto, vado in torsione, apro la spada destra verso il muro, ruoto anche lo sguardo verso la parete che ho dietro la schiena, piano piano torno al centro, scambiamo l'incrocio, abbiamo sempre il piede all'altezza del ginocchio, mi auto abbraccio bene la gamba flessa, il braccio sinistro lo porto dietro, con la mano vicino al bacino, spingo e cresco verso l'alto, apro la spalla, ruoto la testa, tra l'altro una rivisitazione di un film, di una storia famosa a tutto il mondo, che ci ha accompagnati quando eravamo bambini, vediamo davvero se qualcuno la riconosce, bene, sciogliamo l'incrocio, incrociamo, anzi no, perché siamo fuori dal tappeto, io perlomeno mi faccio le ginocchia, portiamo i piedi da un lato, ci mettiamo in quadrupedia, da qua porto fuori la gamba destra, la punta del piede rivolta in avanti, e lentamente scarico tutto il peso sulla gamba sinistra flessa, gamba destra bella attesa, devi sentire allungare tutta la parte interna della gamba, porta lo sguardo in basso e appoggiati sui gomiti, ancora 4, 3, 2, 1, recupera le mani, recupera la gamba e vai a fare la stessa cosa dall'altra parte, stendi bene la gamba fuori e scarica tutto il peso sulla gamba flessa, la punta del piede rivolta in avanti, devi sentire allungare tutta la parte interna della gamba, chiamato anche interno coscia, 4, 3, 2, 1, lentamente torno indietro, recuperiamo un piede dopo l'altro, via il cappetto, piedi paralleli, ginocchia flesse, un bel respiro, e pian piano inizio a recuperare una vertebra dopo l'altra, via le spalle dalle orecchie, schiaccia l'omberico, soffio, questo è un'altra, è un altro brano ancora, bene, inspiro, porto le braccia avanti, le porto in alto e fuori, ancora su, questa la conoscete, un po' vecchia anche questa, ma va bene, è un po' una macedonia, ancora su, rimani con le braccia in alto, solleva i palloni, cresci via le spalle dalle orecchie, mantieni la posizione e rimani, in quattro, tre, due, uno, porto i palloni a terra e lentamente, lascio cadere le braccia, basso al basso, ci siamo? Eccomi, com'è andata? Bene Fina, sono contenta, grazie, tutto bene, sì? Beh, vi metto gli occhiali, almeno vedo meglio, perché sono anche più dignitosa, grazie, mi fa piacere, sono contenta, vi sto, vi sto scorrendo, bene, tutto a posto? Bravi anche voi? Per ogni insegnante brava c'è sempre un grande gruppo, perché un insegnante bravo è fino a se stessa, si diventa bravi quando si hanno delle grandi persone in sala, che sono di stimolo emotivo di crescita, altrimenti si rimane sempre lì, perché quando si dà, si riceve poi indietro, addominali un po' diversi, e io tutte le volte dico, grazie Lisa, grazie mille, tutte le volte dico di non fare cose nuove in diretta, e poi è più forte di me, ormai mi conoscete, bene, no non c'è la doppietta stasera Paola, no, grazie Giuliana, sono contenta, grazie a te Laura, mi fa piacere, bene Lisa, grazie, la festa degli addominali, qualcuno ha riconosciuto la canzone con la quale abbiamo fatto stretching? nessuno, aia, non lo scrivete, meno non l'avete riconosciuta, bene, allora ve lo dico, addominali tosti, si, si, eh ma, l'addominale, forse gli addominali sono non neose, ho ancora veli strong, facendo Pilates, ce l'ho ancora, poi il resto non sfascio, totale, bene, allora, il brano che avete sentito, brava Laura, the winner is Lauretta, bravissima, 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 bene, perché non era semplice da, da riconoscere, allora, con una sonora di Pinocchio, fatto da, interpretato da Benigni, un film un po' datato, di qualche anno fa, diciamo, però, la, la musica è bellissima, la metteremo in sala cristallo, e, la signora del, del, del condominio lì, pace, brava Laura, l'applauso alla Laura, non era facile da riconoscere, bene, allora, io con questo vi saluto, sempre, un po' meno in anticipo, rispetto al mercoledì, grazie, Cristi, rispetto al mercoledì, vi auguro, buon fine settimana, che sarà veramente, un fine settimana, l'insegna della pioggia, 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 però, insomma, ci vuole anche quella, per cui, beh, staremo sul divano di nuovo, comunque, vabbè, e, spero di vedervi, come sempre, prima possibile, davvero, cerchiamo di essere positivi, e di non mollare mai la presa, buona serata a voi, grazie, di essere stati qui con me, alla prossima settimana, bene, buona serata, buona scena, e, buon tutto, grazie Lisa, anche a voi. a voi, a voi.